Fatture false per evadere l'IVA, il sistema era articolato, venivano usate, società create ad hoc grazie dei prestanome. Di fatto la contabilità perfetta nascondeva invece la frode. Questo quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Padova. Dopo mesi di indagini sono state arrestate tre persone e posto sotto sequestro preventivo beni per 7,9 milioni di euro per reciclaggio ed utilizzo di fatture false pari a 23 milioni e mezzo di euro. L'indagine dei finanzieri è stata svolta nei confronti di numerosi operatori economici nel settore del commercio di prodotti elettronici e di telefonia. Al centro dell'inchiesta l'amministratore di una società padovana e due suoi prestanome. Seguendo le loro tracce gli uomini delle fiamme gialle sono arrivati fino a Dubai. Tra i beni sequestrati, oltre a quasi 850 mila euro, tra depositi in conto corrente e denaro contante, anche auto e altri beni di lusso nonché un immobile. L'indagine è iniziata con una verifica fiscale ad una società di Padova amministrata da un 55enne di Torreglia, ma di fatto residente a Galzignano, società formalmente di proprietà di un quarantenne di Galzignano e di una 51enne di Este. Quello che a prima vista sembrava tutto in ordine a livello di contabilità, nascondeva invece particolari sospetti come sedi operativi inadeguati, consumi energetici pressoché nulli, a fronte di flussi di denaro a 6-0 investiti in aziende da due soci fittizi. Questo ha insospettito i finanzieri di Este che hanno indagato sulle vicende societarie e processuali del 55enne, fino a scoprire una sfilza di giroconti per sottrarre le somme ingenti di denaro all'erario.